Grazie. 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 Sì, tranqui. Ma perché si dico, siamo due cose così? Un trezzo. E lo prendi bene, tu? Sì, direi. Bene, la fino a qui. Ma è bozza? No, è bozza. Un po' più a lunghe. Un po' più a lunghe. Un po' più a lunghe. Pronto. Come ti ricordo? Ero buona?